musica perché si può acquistare questo gioco gratuito per la versione per pc si può acquistare perché la square enix quindi la casa produttrice di hitman è compi i suoi 15 anni quindi ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi supporter diciamo quindi ha deciso appunto di regalare questo gioco però è valido solamente fino al 29 quindi oggi che stare vedendo questo video è sabato 28 novembre il gioco è disponibile fino a domani quindi ragazzi mi raccomando seguite passo per passo questo video e mi raccomando fatelo in fretta ragazzi perché domani sarà già scaduto e quindi non potrei più prenderlo gratis quindi attuali iniziamo subito vi faccio vedere immediatamente come è possibile fare questo iniziamo allora io vi lascerò qui sotto nella descrizione un link ragazzi in questo link voi vi si aprirà questa pagina dove c'è la pagina della square enix dove c'è hitman 2 silent assassin voi cosa dovrete fare dovrete registrarvi quindi cliccate qui dalla parte registrati e vi si aprirà questa pagina join now and tutte le altre cose metterete la vostra email la vostra password e tutto quello che c'è da fare qui alla vostra destra una volta registrati ragazzi vi farà tornare qui su questa pagina iniziale comunque ve lo ripeto questa pagina ci andrete con il link sotto in descrizione e quindi tornerete qui su questa pagina se non vi farà tornare dopo la registrazione su questa pagina nessun problema non vi impanicate raga tornate sul mio video andare sotto il link in descrizione lo riaprite lo riaprite e rifate l'accesso tranquillamente e andate avanti secondo passaggio ragazzoli cosa dovete fare una volta che vi siete registrati cliccare qui su acquista ora voi cliccate su acquista ora e vi si aprirà una pagina con il carrello dopodiché voi per non pagare 7 euro dovete inserire un codice questo codice è il codice coupon ragazzi e vi permetterà di acquistare il gioco gratuitamente il codice è free silent assassin ragazzi mi raccomando non vi sbagliate cliccate su usa e dopodiché andrete avanti con il pagamento adesso non ve lo faccio vedere perchè questo non ho eseguito l'accesso ragazzi dopodiché dopo che avete cliccato su usa quindi voi ve lo faccio rivedere ragazzoli per così almeno vi si aprirà questa pagina ok voi andrete su usa un coupon in questo articolo inserirete free silent assassin cliccherete su usa mi raccomando cliccate su usa perchè sennò non leggerà il codice e dopodiché continuate il pagamento una volta finito il pagamento vi arriverà un codice steam steam che cos'è ragazzi penso il steam lo conoscete tutti è un software dove si può giocare online con dei giochi per pc voi entrerete su steam quindi se siete già registrati fate l'accesso inserite il codice e che vi è arrivato di hitman 2 se invece non non avete ancora steam vi registrate è gratuito ragazzi gratuito la registrazione a steam è gratuita vi registrate e andate a inserire il codice nell'aria per inserire i codici e riscattare il gioco ragazzuoli quindi io spero che sono stato chiaro ragazzi penso di essere stato il più chiaro possibile su come fare e un'altra cosa ragazzi mi raccomando solamente anche questo solamente fino a domani avrete il 10% sul preordine del nuovo hitman ragazzi il nuovo gioco di hitman però solamente fino a domani ok quindi adesso appena finito il video ragazzi voi cliccate il link sotto in descrizione e andate immediatamente a scaricare il gioco poi se volete anche acquistare hitman quello nuovo avrete il 10% di sconto sul preordine però solamente fino a domani anche questo quindi ragazzuoli spero di essere stato il più chiaro possibile come sempre vi ricordo se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile anche perchè comunque hitman è un gioco molto seguito ragazzuoli tanti bei pollicioni su commentate condividete iscrivetevi al canale passate anche sotto in descrizione pagina facebook e instant gaming condividete a manetta questo video e tanti bei pollicioni in su ragazzuoli noi ci vediamo con un prossimo video bella regà